Fabio Cancelli, oggi possiamo dire davvero anche decisivo, in quella forse unica occasione clamorosa che ha avuto il Castiadas, però hai fatto un intervento che ha salvato la porta. E poi è sempre sicuro, anche Tore Pina in sala stampa ha detto che voleva fare i complimenti per la tua crescita in questa stagione. Sì, ho fatto il mio diciamo, quindi sono contento, però l'unica cosa che mi viene in mente ora è la salvezza. Siamo salvi, ce lo siamo meritati, è stata un'annata difficilissima per tante cose, però questo è il giusto premio, anzi forse così è ancora più bello. E soprattutto ringraziatore per le parole, le belle parole che ha speso per me durante l'anno, non solo oggi ma durante tutto l'anno, mi è sempre stato vicino e mi ha dato una grande mano. Possiamo dirlo anche, il fatto che lui potesse in qualche modo sempre giocare e prenderti il tuo posto, quello che doveva essere il tuo posto, però tu l'hai vissuta sempre nel modo giusto. Vivi vicino a una persona da cui hai soprattutto imparato. Sì, 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 ho imparato tantissimo da lui quest'anno. No, il fatto di giocarsi il posto è normale, capita in tutte le squadre, anzi era uno stimolo in più per me questo, le partite dove ha giocato Tore poi l'ho sempre sostenuto. E anzi, abbiamo remato entrambi verso l'unico obiettivo che era quello della salvezza. Siete felicissimi, ovviamente è sudatissimo questa salvezza, però una tua dedica, chi la vuoi dedicare? Io lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei amici che sono sempre stati con me, tutti, mi hanno sempre sostenuto, non quest'anno ma tutti gli anni, ogni volta, sono il mio stimolo in più per far bene, per fare al meglio quello che posso fare, il mio lavoro. Complimenti Fabio Cancello. Grazie mille.